Universal Pack è un'azienda che progetta e costruisce macchine linee personalizzate per il confezionamento di polveri, granuli e liquidi. Le nostre soluzioni sono apprezzate in numerosi settori applicativi come l'alimentare, il farmaceutico, il chimico e il cosmetico. Il settore del packaging presenta caratteristiche uniche. Per ogni impianto è necessario considerare produttività, dimensioni, tipologia di materiali da gestire e naturalmente le relative confezioni. Non solo, tracciabilità, normative stringenti, risparmio energetico e sostenibilità sono altri fattori da considerare e richiedono partner affidabili. La collaborazione con Schneider Electric è nata molti anni fa e oggi ci permette di affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Il nostro lavoro si basa su innovazione tecnologica, competenza tecnica e professionalità che per il cliente si traducono in qualità, affidabilità ed efficienza. Per raggiungere simili risultati è indispensabile contare su strumenti adeguati. È qui che entra in gioco Schneider Electric che oltre a fornire i principali componenti per l'automazione ci ha offerto la possibilità di andare oltre la classica simulazione di processo grazie al supporto del Digital Twin. Tramite il software EcoStruction Machine Expert Twin è infatti possibile realizzare un gemello digitale basato su un modello 3D completo sul quale operare e interagire in tempo reale in tutte le fasi del ciclo di vita, dalla progettazione al post vendita. In questo modo è possibile osservarne in anticipo le caratteristiche e le modalità di funzionamento. Il risultato è un dimezzamento del time to market, una riduzione del 60% del tempo di messo in opera della macchina e un conseguente taglio dei costi. Ma per Universal Pack il Digital Twin non è solo un software utile in fase di progettazione. È anche uno strumento per la formazione del cliente finale grazie al supporto della realtà virtuale e della realtà aumentata che consentono agli operatori di prendere confidenza con gli impianti prima ancora che questi vengano materialmente costruiti. grazie a tutti.